Musica 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 Cioè devono fare qualcosa perchè non può giocare non può essere così invece sto cactus zen è proprio forte gli zombolini due colpi sono morti se sono a intera vita comunque è molto meglio il cactus jada per danni radiali questo fa un po' di meno di danni radiali però se lo becchi si ma se lo becchi invece qui con questo cactus muoiono cioè fanno tanto di danni chissà com'è quello di pietra che ha i colpi esplodenti raga ma chi è che sta spara questi zombolini del pene tu eri allora il video numero 3 dovrà uscire domani ma domani pomeriggio o tardi perché non ti spiego ci vuole un sacco di tempo a caricarlo cioè è già pronto il video è a caricarlo che ci vuole un macello oh no qualcuno ha chiamato lo smack spero che non sia teen guarda tu sei brutto bastardo non eri tu ehi volete sapere una cosa che ho appena scoperto voi lo sapete che se allo smack se gli colpite la levetta quella che luce da dietro gli fate il danno critico ogni volta eh mo l'ho appena scoperto invece di fare metà danno faccio danno pieno da dietro davanti invece faccio sempre danno a metà ah un'altra cosa sapete che l'unica classe che può uccidere lo zombolino mentre sta chiamando il mack e la russa perché può trasformare l'incapra e poi si vede che il mack si bugga e lo potete uccidere ma il mack non può trasformare l'incapra no non il mack lo zombolino prima che che quando si vede che tira fuori il telefono è presente eh in quel momento se tu lo trasformi in capra è vulnerabile solo a quell'abilità l'hanno detto quelli della della pop cap hanno detto non sapeva ha detto probabilmente è un bug l'ha detto uno di quelli che però non si occupa di gameplay uno di quelli che si occupa del non mi ricordo che cosa ha detto no probabilmente è un bug grazie per averlo segnalato ha detto comunque sto in serie eliminazioni da tanto mok per 11 ho fatto però non mi piace vè nessuno che conquista tutti a pensare a fare uccisioni tutti a pensare a fare uccisioni dal peine cioè che cazzo di gioco che è diventato questo vabbè non ti preoccupare perché tanto tanto c'è anche il solo play dove ti puoi giocare anche da solo quando gli amici non sono online e comunque puoi guadagnare esperienze quella è la cosa bella la prima volta nella storia su Call of Duty quando giochi con i bot non puoi guadagnare esperienze che è più grave al telefono magari puoi mettervi la voce online raga ma voi vedete bugato ogni tanto qui la mappa io la vedo bugata adesso bugatissima adesso se l'eliminazione da 13 c'è raga ma vogliamo parlare di quanto sembrava forte l'abilità quella del barile e di come invece è scarsa l'abilità del barile di Capitan cioè io non avrei mai immaginato addirittura addirittura mentre stai nel barile puoi subire anche colpo critico in testa cioè è proprio ultra buggato che è ultra buggato perché si pure a me era piaciuto però a chi se lo immaginava che doveva essere così scarso io vi dico che molto probabilmente sto facendo tante monete guardatelo voi perché io sto in serie eliminazioni per 13 col cactus zen cioè proprio ehi più di così infatti c'ho c'ho 7000 monete e quello che sta al secondo posto è a 2000 e gli altri hanno tutti sotto 1000 monete in tutta la partita no vabbè non si può proprio vedere cioè guardi i punti come il moltiplicatore di punti la cioè no come si chiama la serie eliminazioni ti aumenta il punteggio in maniera spropositata questo si è suicidato quando c'è stato uno che si è suicidato ma ha fatto serie eliminazioni per 18 cioè da 13 a per 18 non ho capito sinceramente che cosa ho fatto non ho sparato non ho fatto niente moch no ma si è buttato si è buttato giù proprio nel buco volutamente si è visto che si è buttato proprio lui con un salto si è buttato nel buco non ve lo so spiegare serie eliminazioni per 19 serie eliminazioni per 20 ragà per 20 allora il record con il cactus zen di un amico mira 22 avevo visto ma vediamo se lo riesco a superare ho fatto grande assi per il cattus ma dove è questo cattus potrebbero mettere che hai più vite dentro parire no sai cosa devono fare devono mettere semplicemente lo scudo che così subisci mi da danno perché è più sensato se ci pensi è più sensato ragazzi io comunque qua vorrei sto per pareggiare 22 sto per pareggiare quello del merda mi ha ucciso no e che palla da ucciso 16% di vita aveva sto figlio di bastardi non ce l'ho fatta ad eguagliare quel record va a fan bagno nessuno che mi può curare ah no sta un mech di grass effect nessuno lo farà ovviamente ho fatto fuori il mech di grass effect boh non lo so certe volte mi chiedo il mech boh ho fatto fuori un altro ho fatto fuori un altro con un colpo cioè sto sto cactus è proprio overpower non sto camminando è quella la cosa bella forse eh non capiterà mai solo su la mappa non so in questi punti mi sto trovando bene poi devo vedere su sito of time ecco cecchino contro cecchino ho vinto io raga qualcuno può vedere le monete che ho fatto che non lo so non ho idea adesso i punti che ho fatto 10.000 10.000 mamma mia che cosa è successo nooo è ucciso è ucciso dalla uova esplosione di sto cacchio di coso qua di 10.600 no è troppo ho fatto 27 eliminazioni la serie più lunga è sicuramente la partita il punteggio massimo mamma tutto ho fatto ma se ci manca solo che faccio maestro degli assi se faccio al podio starò al centro vai a vedere che starò al centro ho fatto pure un altro i zombolini sono la preda perfetta di un cactus chi è chi è che sta sparando se riesco a prenderli si comunque ucciso da sto fante di merda ma io mo mi devo vendicare ma proprio che cosa fa quel raggio rosso del del coso ecco io mo sono stato colpito da uno sono stato ucciso al volo da questo fan del sommozzatore qua snake monkey tu tre altri uno dice nessuno mi può curare vabbè vado già nell'area successiva questa è la caverna io qua voi lo sapevate che questo è un buco infinito che morite se cadete dentro che sta un buco sotto là io invece nel video nel numero 4 si vede che cado giù ecco quello ha fatto un capitombolo vedi ha fatto un capitombolo perché è morto come un idiota pure lui non lo sapeva non mi dire di nuovo cioè pur di non far dare l'uccisione agli avversari preferiscono fare il capitombolo oh merda mo stavo per cadere io nel capitombolo qua sto per farlo io il capitombolo mamma mia ho preso uno zombolino al volo da 3 km non so nemmeno io come fa dai cioè io non ho mai fatto una strage del single peccato che è la beta altrimenti fosse stato oh ma questo non muore sto coso sto sto come si chiama capitano barba morta senza il cappello poi non so come si fa a mettere a togliere il cappello io non sapevo a volte in battaglia gli si stacca da solo quando si può non riuscire a lancia vero te ne devi andare si se faccio per la cortina andatemi anche qui vero com'è ah non lo so non rischiare no non rischiare perché questa è una è la partita che avrò fatto tanti punti voglio vedere che quante monete mi dà la fine che so curioso però non lo so tu continua a giocare non troppo quando manca tanto dai ok ciao non ho capito con mannecchie mannecchie che sta a 4.000 è l'unico potenziale pericolo di trovergolè oh ma sta questo sta un pappagallo da qualche parte raga fatelo fuori per favore io lo cactus zen viola sono arrivato a livello 9 ce l'avevo a livello 1 per farvi capire frae fraeggio fraeggio con 11.000 oltre 11.000 punti non lo so nemmeno io non sto nemmeno a guardare perché mio fratello si chiama jonathan e quindi fraeggio giusto così uno ma cazzo capito volete sapere una cosa buona che ho scoperto di capitan barba morta che costano le mastica zombie che vanno sotto terra se tu premi il tasto triangolo e sali sopra il cannone la mastica zombie si mangia il cannone e poi avete il tempo di ucciderlo si si comunque sicily se tu segui piante contro zombie io ti consiglio di guardare il mio canale perché metto news a motore ne abbiamo perso non siamo riusciti a conquistare tutti oh hai visto al centro aspetta io mi voglio salvare questa grazie